Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, direi di iniziare subito. Per prima cosa Giulio, dove siamo? Dov'è questa via Vandelli? Da dove partiamo? Dove arriviamo? In quanto tempo? In quanto chilometri? Che tipo di percorso è? Andiamo a mettere un contesto di questo. Buongiorno a tutti, ovviamente ringraziamento a Mattia Terre di Mezzo per avermi invitato e avermi dato l'opportunità di raccontarvi un po' della via Vandelli. Come ha detto Mattia, la via Vandelli ha una storia un po' particolare perché è una strada, è una strada settecentesca e credo che entreremo nel dettaglio anche della storia. Però iniziamo dal territorio e dal percorso della via Vandelli. Il territorio della via Vandelli, e così c'è già un pizzico di storia, è il territorio del ducato estense settecentesco. E cosa vuol dire? Significano veramente i possedimenti dei duchi d'este nel settecento che all'epoca si estendevano in quelle che sono adesso le province di Modena e Reggio Emilia, comprendendo tutto ciò che arrivava fino al Po, quindi i principati di Correggio, Guastalla, Carpi, ma non solo. A quell'epoca i duchi avevano tutta, oltre al Frignano, quindi la montagna modenese, anche la Garfagnana, non l'avevano acquisita da poco, l'avevano acquisita da molto tempo e solo da poco tempo, prima di aver iniziato la costruzione di questa strada, avevano acquisito anche il possesso del principato di Massa e di Carrara. Quindi parliamo di un territorio che si estende dal cuore dell'Emilia, da Modena e da Sassuolo, vedremo poi perché, attraverso la montagna modenese, passando dalla Garfagnana, che è la parte più selvaggia della Toscana, per scavalcare le Alpi Apuane, quindi Alpi come dice il nome, per arrivare fino al mare. Quindi è veramente un percorso che parte dalla pianura, sale sul crinale toscemigliano, scende in una valle, risale sulle Alpi per arrivare fino al mare. Ok, ottimo, quindi un palico un po' da un versante all'altro della nostra Toscana, attraverso una serie di territori molto differenti e tutti molto affascinanti. diciamo, partire appunto dal versante mediano, salire sulle montagne e che montagne è la quale, nel senso, se l'avete vista anche solo passandoci sotto, avete preso anche di che tipo di cina stiamo parlando e poi finire al mare, che sembra sempre una attenta più buona, più buona. insomma, un bellissimo tracciato ricco, sicuramente, di studi naturalistici. Ti chiederei, prima di passare davvero alla storia, ti chiederei, quanto difficile, quanto impegnativo stare un attimo solo sul tecnico, in quanti giorni lo si può tramutare, cosa c'è da sapere, insomma, perché so che poi tutta la parca storica ti affascina molto e ti lascerò poi lo spazio per partire, perché è meraviglioso sentire di parlare da quella parte di ricerca lì, quindi sbloceremo prima tutti i dati e poi prendiamoci quello spazio. La via Vandelli, nel suo tracciato da Modena a Massa, al Mar Tirreno, ha una lunghezza di circa 170 km. Nella guida io la propongo in sette tappe e se fate la divisione sono tappe mediamente lunghe, perché si tratta sempre di più di 20 km al giorno, ma per tracciare un cammino bisogna tenere conto di tante cose, non solo della lunghezza ma anche di far finire le tappe in luoghi dove si possa dormire, cosa che sulla via Vandelli si può fare. Non è un cammino che è stato costruito, nel senso che non sono state costruite le ospitalità per il cammino, ne stanno nascendo in questi ultimi anni, ma la via Vandelli sfrutta le ospitalità, quelle storiche, soprattutto quelle storiche degli anni 70, 80, 90, quando si andava in villeggiatura in montagna, quando si faceva il mese sull'appennino modenese e quindi ci sono le pensioni, gli alberghi che hanno resistito in questi anni e che stanno veramente trovando una nuova vita, quindi sette tappe, sette tappe anche partendo da Sassuolo, è un po' più breve, sono un po' più di 150 km, quindi le prime due tappe sono diverse se si parte da Modena o da Sassuolo, in realtà si incontrano i due percorsi lungo la seconda tappa e poi da metà della seconda tappa, terza, quarta, quinta, fino alla settima il percorso è unico. Quindi abbiamo detto tappe un po' lunghe, non eccessivamente, non si superano mai i 30 km, si sta sempre sopra i 20 km tranne una delle tappe partendo da Sassuolo proprio perché abbiamo detto che è più corta. Un'altra caratteristica è il dislivello che è abbastanza importante, si parla di più di 5.000 metri di dislivello, forse 5.500 metri di dislivello. Uno dei motivi principali è che si valicano due volte i 1.600 metri, quindi sul crinale toschemiliano si passa poco sopra San Pellegrin in Alpe dove c'è un antico ospitale, a proposito di ospitalità, dove dormire un valico antichissimo, questo veramente di passaggio dalla Toscana verso il nord Italia e si passano i 1.600 metri anche sulle Alpi Apuana al passo della Tambura, casualmente 1.620 metri per entrambi i passi. Per salire al primo passo ci si arriva gradualmente con diverse tappe e la salita alle Alpi Apuana invece è tutta in un colpo, quindi c'è una salita molto ripida. Non è il sadismo dell'autore della guida, non è neanche una perversione di Domenico Vandelli che è il progettista della strada, ma è proprio un'esigenza di quello che abbiamo detto prima, la strada doveva passare di lì, quindi bisogna essere un po' preparati, diciamo che non si può tirare su dal divano e partire per la via Vandelli, bisogna essere un po' abituati a camminare. Ma quindi bisogna spaventarsi all'idea di affrontare la Vandelli o con un pochino di allenamento, con un pochino di accortezza e magari poi dirci qualcosa si può fare, si può affrontare anche se non siete in situazioni esperte delle guide alfine? Non bisogna spaventarsi, bisogna essere contenti di avere fatto la via Vandelli e di essere riusciti nell'impresa, c'è un po' di soddisfazione nell'avere portato a casa la via Vandelli, possiamo dire. Io ho detto sette tappe, ma non è come sempre che si debba fare in sette tappe tassativamente, c'è chi l'ha fatta in meno, ma c'è anche chi l'ha fatta in molte più tappe. Una coppia di pensionati l'ha fatta in tredici tappe, questo vuole anche dire che si trova da dormire non solo nei sette punti in cui finiscono le tappe, ma ospitalità diffusa ce n'è tanta. Questa è una caratteristica un po' secondo me della via Vandelli che non è comune a tutti i propri cammini perché si attraversano, a parte un paio di casi, territori dove ci sono borghi, ci sono paesi che vivono attorno anche alla via Vandelli e quindi non bisogna spaventare, non bisogna avere paura, bisogna prepararsi perché è un peccato partire e poi fermarsi dopo due tappe perché non si ha più il fiato o la gamba. Ok, allora ci siamo detti un po' di informazioni tecniche, direi che è il momento di andare a capire che cos'è questa via Vandelli, chi è questo domenico Vandelli, hai già accennato appunto agli este, ti chiederei di partire se hai voglia da come hai scoperto tu questa via Vandelli, come l'hai vista chiaramente uscendo di casa perché un pochino si percepisce che stiamo parlando del tutto il ritardo, dove l'hai trovato questa via Vandelli e hai fatto un pochino di tutto così? La via Vandelli è la strada di casa, di casa mia, io sono nato sulla via Vandelli, sono nato anche io al policlinico di Modena, ma diciamo casa mia è in un piccolo paese che si chiama Montale, 10-15 km fuori Modena, sulla via Vandelli, quindi per me era veramente la strada di casa, quando io andavo giù in paese e mia nonna mi diceva stai attento quando fai Vandelli in bicicletta, quindi è proprio quella, Vandelli e questo nome, Vandelli, torna in tutte le persone, in tutto il territorio attraversato da Vandelli, questa è una cosa interessantissima, man mano che mi sono messo a studiarle, a cercarla, in Garfagnana le persone avevano il mio stesso affetto per questa strada, mi dicevano sì, magari non gli avevo neanche parlato che io ero lì per capire dove passava la Vandelli, ma mi dicevano perché là poi passerebbe la Vandelli e la stessa cosa nelle Alpi Apuane, cioè tutti quelli che ci vivono vicino la sentono come la strada di casa, quindi io quando stavo per compiere 40 anni ho deciso, che un po' come rito di passaggio, volevo camminare quella che era la strada di casa da Modena a massa a piedi e pensavo di fare una cosa semplicissima, di scrivere su motore di ricerca via Vandelli tracce percorso e di trovare tutto quanto, nel 2016 quando mi sono messo a fare questo lavoro queste informazioni non c'erano, quindi questa che è un'importantissima strada settecentesca, io la chiamo la madre delle strade moderne, ma perché nel 1739 quando Domenico Vandelli su commissione del Duca Francesco III d'Este ha iniziato a progettare questa strada, era dal tempo dei Romani che non si progettava un'infrastruttura di 150 chilometri completamente lastricata per il passaggio dei carri e delle carrozze, l'ho detta velocemente ma è qualcosa di importante e quindi una delle caratteristiche secondo me uniche mi permetto di dire della via Vandelli è che quando si cammina la via Vandelli si cammina un percorso preciso, la via Vandelli è stata lastricata e costruita esattamente lì, sono state messe le pietre dagli operai su commissione di Vandelli per far passare carri e carrozze, quindi c'è questa sensazione quando lo scarpone batte sul selciato settecentesco di questa strada e quindi io la volevo percorrere, non ho trovato il percorso, mi sono preso un autunno e un inverno per studiare negli archivi e quindi antiche mappe, nell'archivio di Stato di Modena, libri assolutamente, ci sono dei libri approfonditi su Vandelli che spiegano la storia di Vandelli ma non il percorso e l'ho ricostruito a giugno del 2017 me lo sono camminato io perché questo è il motivo per cui è partito tutto io volevo camminare dove Domenico Vandelli aveva costruito la strada e da lì dopo che io l'ho camminata in otto giorni io a quel tempo perché da Modena la prima tappa un venerdì sera dopo il lavoro l'ho fatta fino a Montale, ho dormito a casa dei miei genitori dopo tanti anni quindi per chiudere un po' il cerchio da lì è partita questa nuova vita della via Vandelli come cammino quindi in pratica tu stavi cercando di organizzarti una vacanza, è successo questo e hai scoperto che quella vacanza non c'era e bisognava ricostruirla tutta e sei imbarcato in questa avventura di andare a ricostruire proprio tutto questo percorso appunto progettato e realizzato da Domenico Vandelli per gli Este per andare a collegare due territori che erano separati dagli appennini e in realtà dalle albi quindi insomma una sfida niente a poco e bisognava farci passare il campo e questa è una particolarità appunto del tracciato che si ritrova in alcuni punti del tracciato soprattutto per Ciccola Dombura in Paolo perché si rivede esattamente quel percorso di quello che poi hai riportato in copertina raccontaci un po' di com'era strutturata, di qual è stato il lavoro che ha fatto Domenico Vandelli appunto che tipo di strada ha scelto di costruire, com'era strutturata se c'erano delle infrastrutture oltre al senciato in un senso per cui è una cosa affascinante e interessante io chiamo la Vandelli anche la strada dell'illuminismo il 700 è il secolo dei lumi, è per questo che si costruisce questa strada Francesco III d'Este ha come tutore Ludovico Antonio Muratori un grande illuminista italiano, Domenico Vandelli stesso un illuminista è il momento in cui veramente si inizia nuovamente con strumenti scientifici a studiare il territorio gli Est avevano perso l'accesso al mare dopo la devoluzione di Ferrara alla fine del XVI secolo e avevano un territorio che era tutto nell'entroterra quando Francesco III col matrimonio del figlio Ercole III con l'erede del Ducato di Massa e Principato di Carrara riacquista l'accesso al mare decide di fare una cosa inimmaginabile per l'epoca di pensare una strada lastricata, quindi via strata veramente lastricata dove passassero i più moderni mezzi di comunicazione mai visti cioè i carri per il trasporto merci e le carrozze per il trasporto delle persone fino a quel punto si andava per sentieri, tratturi e si trasportavano le merci a Soma su lunghe distanze e Domenico Vandelli deve affrontare un territorio che conosce, che è quello modenese e un territorio per lui anche abbastanza sconosciuto, che è quello delle Alpi Apuane studia questo territorio e Domenico Vandelli oltre ad essere ingegnere cartografo fa una delle più meravigliose cartografie settecentesche gli stati del serenissimo signor Duca di Modena in Italia è anche professore di matematica dell'Università di Modena e quindi utilizza uno strumento matematico scientifico che è quello della triangolazione per studiare il territorio, quindi vedete quante innovazioni ci sono costruisce questa strada e la costruisce sull'Appennino modenese è una strada principalmente di crinale nell'Appennino modenese perché è vero che è la prima delle strade moderne ma è anche un po' l'ultima delle strade antiche il Duca vuole un progetto con dei requisiti che sembrano moderni deve essere fatto velocemente, basso costo di manutenzione, veloce da costruire quindi Vandelli fa questa scelta di una strada di crinale e senza ponti perché i ponti sono costosissimi, quindi tutti i guadi in cui mette dei tubi nelle direzioni dell'acqua per favorire il guado quando arriva sulle Appuane si trova di fronte una sfida che non aveva mai avuto prima quindi questi pendi molto scoscesi non poteva fare altra scelta che passare di lì e costruisce più di 20 km, ne sono ancora visibili benissimo 6 km di muro a secco attornanti che sale sul fianco delle Appuane in 6 km la via Vandelli fa mille metri di dislivello salendo con un muro a secco che è ancora lì sulle Alpi Appuane domenica, anzi sabato scorso sono stato a Massa a inaugurare un pezzo originale settecentesco che ho riscoperto grazie alle mie ricerche che il CAI di Massa insieme all'Unione dei Comuni di Massa ha ripulito e ha riportato alla luce un pezzo che sta più in basso rispetto a quello che vedete in foto ma l'interesse è talmente tanto che a cosa servono i cammini? servono anche a questo, a recuperare, non solo a farci camminare, a farci stare bene ma a farci conoscere il nostro territorio ma anche a salvaguardare le meraviglie che abbiamo un lavoro moderno e antico per riuscire a costruire una nuova infrastruttura tra l'altro anche andando a intervenire sulle forme della montagna sono valide che sono stati già aperti nella roccia per riuscire a far passare la strada con una vendenza accettabile per tutti i cammini insomma una grandissima opera di giria e musica allora ti chiederei di raccontarci poi cos'è successo da quel 2016 quando tu hai detto va bene, provo a farmi questa vacanza e ti sei imbarcato in una vettura appunto di te che poi ti ha assorbito immediatamente ad adesso, insomma, tu hai camminato una volta, sei tornato a casa e da lì che cosa è successo e come è successo e siamo qui oggi a raccontarla a tante persone io l'ho camminata nel giugno del 2017, ho ottenuto un blog perché poi l'internet e i social servono e ho ottenuto un blog, ho ottenuto un diario di viaggio quindi anche la parte fisica, quindi avevo il mio quadernino con me dove scrivevo e visto che io avevo fatto questa ricostruzione della strada l'ho messo a disposizione con le tracce, GPX è uscito il mio diario di viaggio, quindi alcuni hanno letto il mio diario di viaggio tante persone si sono incuriosite ma soprattutto nel territorio attraversato della Vandellia la parola Vandellia è un po' leggendaria questa strada quindi in tantissimi hanno reagito e in tanti sono voluti partire alla scoperta di questa strada 2018 sono partiti alcuni con le tracce che avevo messo a disposizione così nel frattempo ho dovuto fare un'operazione che poi è stata migliorata ed è finita nella guida che è di trovare alcuni percorsi per la Vandelli non possono passare dove sono passato io sulla Vandelli originale perché in alcuni tratti sulla Vandelli settecentesca originale sono state costruite strade asfaltate ad alto scorrimento la strada statale 12 della Betone del Brennero praticamente da Modena fino quasi sulle montagne sta sulla Vandelli quindi ho cercato dei percorsi che stiano a 100 metri, 200 metri, 500 metri dalla via Vandelli ed è importante sapere che si è paralleli la Vandelli è vicino non ha senso camminare sul bordo di una statale è meglio camminare su un sentiero e camminare invece sul settecentesco quando c'è 2019 i numeri sono cresciuti finché tra il 2019 e il 2020 Terre di Mezzo che probabilmente ha visto il movimento che c'era attorno a questa via Vandelli che stava diventando un cammino con numeri di qualche centinaio di viandanti all'anno all'epoca mi ha contattato e mi ha chiesto di pensare a una guida la guida è uscita nel 2021 a gennaio del 2021 quindi l'anno scorso abbiamo solo un anno di cammino con la guida di Terre di Mezzo alle spalle ma è veramente esplosa cioè più di 1000-1500 persone hanno camminato sulla via Vandelli che per essere un anno di guida su un cammino che prima non esisteva non è uscita una guida su un cammino che in tanti già camminavano è qualcosa di straordinario 2022 in cui il percorso inalterato la guida è sempre quella la gente scalpita per partire ne stanno partendo decine ogni settimana quindi io non riesco a pensare a che numeri farà c'è una cosa interessante della via Vandelli che d'inverno non si fa come cammino che è stata un po' anche la sfortuna storica della Vandelli perché passando in questi passi così alti in questi territori soprattutto nel versante nord c'è neve e c'è ghiaccio già si fa fatica a fare gli appennini sulle apuane non si va si rischia ma si rischia insomma l'osso del collo quindi diciamo che la via Vandelli si apre dal disgelo fino alle prime nevi e dopo ha un periodo di riposo che a proposito di aver compiuto l'impresa anche questo è bello c'è un momento in cui fare la via Vandelli la fanno in tantissimi è un bel percorso mi sono dimenticato di dire prima sulla via Vandelli Vandelli ha costruito anche le osterie le locande le stazioni di posta di cambio cavalli e si vedono non tutte ma tante si vedono quindi c'è la storia della via Vandelli c'è la storia altre storie che si intrecciano sicuramente sull'appennino modenese si è fatta la resistenza sulla via Vandelli sempre nel periodo della seconda guerra mondiale le donne soprattutto le donne e i bambini perché gli uomini combattevano di massa bollivano l'acqua di mare sul mar Tirreno estraendo il sale se lo mettevano in spalla e camminavano fino in Garfagnana per scambiare il sale con la farina di castagne o le miglia per scambiarla con il grano per portare a casa il cibo per i propri figli passando sulla via Vandelli altri illuministi come Lazzaro Spallanzani hanno studiato gli idrocarburi e facendo la Vandelli si vedono queste salse da cui escono gli idrocarburi questi fanghi freddi si vede lo fiolite quindi rocce vulcani che c'è un lago termale dove si fa la doccia a 38 gradi ci sono le pozze del torrente Renara quindi ci sono veramente tante storie si parte dal palazzo ducale di Modena o di Sassuolo perché dieci anni dopo aver costruito la via Vandelli che partiva da Modena Domenico Vandelli ha costruito il raccordo per i duchi che non partiva dalla loro reggia in centro a Modena ma partiva dal loro palazzo d'estate a Sassuolo per congiungersi quindi la doppia partenza della via Vandelli non è una variante ci sono due vie Vandelli costruite da Vandelli che si raccordano prima di Pavullo dove c'è un altro palazzo ducale si passa dal castello di Castelnuovo di Garfagnana detta rocca riostesca perché a Riosto quello dell'Orlando ha fatto lì il governatore per gli estensi e si arriva al palazzo ducale rosso cibo malaspina di massa i punti di interesse sono tantissimi ma credo che veramente il punto di forza sia che una strada è per me la madre delle strade moderne e tutte le storie che ci si intrecciano ok allora abbiamo questi ultimi 5 minuti che lascerei per delle domande se ci sono vi ricordo intanto che Giulio ha scritto la guida si occupa di Vandelli si occupa del sito di Vandelli e sicuramente è disponibilissimo lo vedete è una persona splendida sicuramente siete interessati ad andare a camminare nel nostro terreno mi chiedono del logo che c'è sulla guida che se leggete sta per Viva via Vandelli vedete il profilo delle montagne Viva via Vandelli è il logo che ho disegnato io quando sono partito nel 2017 mi chiedono se ci sono le indicazioni la via Vandelli lo dico sinceramente non è segnata l'ho segnata io con degli adesivi con questo logo quindi si staccano non si possono attaccare sugli alberi cadono o vengono manomessi purtroppo anche alle volte quindi sì ci sono aiutano tanto ma con la guida quindi indispensabile la guida o le tracce GPX scaricabili gratuitamente dal sito ovviamente se uno le ha tutte e due non può sbagliare però affidarsi completamente alla segnaletica si rischia non di perdersi ma di perdere un'ora perché si scende per un chilometro dove non bisognava scendere si può partire a maggio sì le persone stanno partendo c'è ancora un po' di neve sul lato nord della Tambura molle sta sparendo perché c'era due settimane fa secondo me sta sparendo adesso si può partire ci sono mi chiedono ci sono credenziali c'è un testimonium allora io sono partito per farlo io per farmi questa passeggiata poi quando è diventato un cammino ho iniziato a raccogliere queste esigenze quindi sul sito ho messo a disposizione la credenziale è un pdf si scarica si stampa se uno vuole farlo su un foglio bianco può farlo ma lì c'è la mappa del cammino ci sono un po' di informazioni quindi è più carino si scarica e si fanno i timbri dove non c'è un timbro ufficiale sono molto belli a me piacciono molto si chiama passaporto della via Vandelli visto che non è un cammino religioso i passaporti con tutti i timbri diversi a me piacciono tantissimo fatti dove si dorme dove si mangia nell'ufficio turistico nel santuario di Pujanello o di San Pellegrino dove hanno il profilo a fine cammino se si vuole sempre dal sito si può richiedere è l'unica cosa per cui diciamo si chiede un contributo e viene rilasciato il brevetto della via Vandelli che è interessante perché a seconda di quanti palazzi ducali si sono collegati in cammino si hanno dei titoli diversi quindi se uno lo fa tutta quindi collega Modeno Sassuolo Pavullo Castelnuovo in Garfagnana e Massa si diventa duchi o duchess duca o duchessa della via Vandelli con tre conti o contesse con due se uno fa proprio solo un pezzetto cavaliero o dama della via Vandelli giusto per aggiungere un po' di divertimento ci sono tratti esposti sulla via Vandelli l'unico tratto in cui ci può essere il dubbio che ci sia qualcosa di esposto sono le Alpi Apuane ognuno sa di sé io soffro di vertigini non ho mai fatto una ferrata sulle creste ho paura io sulla Vandelli non mi sono mai accorto che ci siano pezzi esposti sicuramente il pezzo delle Alpi Apuane è un sentiero alpino non è un sentiero appenninico non è il sentiero dove c'è il prato è un sentiero alpino ma un sentiero non è e-e per il cai è e quindi non c'è pericolo allora la via Vandelli passa dalle cave di marmo passa dalle cave di marmo non quelle di Carrara perché passano in territorio di massa facendo la via Vandelli si è tu per tu con le cave di marmo nella parte garfagnina quindi salendo da vagli di sopra verso il passo della Tambura proprio si possono toccare le cave di marmo e vi assicuro che il fascino che magari qualcuno pensa che le cave di marmo abbiano sparisce completamente le cave di marmo sono un pezzo della nostra follia umana contro la natura cioè lì le montagne vengono tirate giù a una velocità impressionante negli ultimi vent'anni è stato cavato il marmo che è stato cavato negli ultimi duemila e scordatevi che facciano delle sculture nessuno è come l'acqua del mare questo bicchiere le sculture non vengono neanche fatti i pavimenti per i bagni di Dubai il marmo delle Alpi Apuane viene tritato per fare carbonato di calcio fare paste edilizie dentifrici e tutto ciò che viene fatto con paste bianche quindi adesso mi sono un po' esposto ma se camminerete sulla via Vandelli questa sensazione ce l'avrete vedete delle motoseghe a filo di diamante alte 20 metri che sono la ferocia contro quella bellezza come si fa com'è la logistica a Modena c'è la stazione dei treni anche a Sassuolo c'è la stazione dei treni della stazione provinciale quindi si può arrivare in treno a Massa c'è la stazione dei treni si torna con due cambi se si passa da Parma diciamo o se uno vuole tornare da Firenze a Bologna così credo che i cambi siano tre ma si torna in treno ci si mettono due ore tre ore però insomma dopo una settimana di cammino ci si può anche rilassare un po' in treno grazie a voi seguite viavandelli.com su Facebook c'è sia Vandelli che i viandanti della via Vandelli troverete tutto grazie a tutti grazie a tutti